Siamo in via dello stadio ad Abano Terme di fronte agli impianti sportivi tra i più importanti della città. Ciò che noi vogliamo è rilanciare lo sport come fattore anche di attrazione per le terme abbinando la parola turismo alla parola sport perché noi siamo un centro di benessere dunque per noi sport significa prevenzione e cura oltre che educazione e formazione dei giovani. Il nostro obiettivo è quello di costruire la cittadella dello sport in un'area che abbiamo già individuato e con un progetto di fattibilità mantenendo le strutture che già ci sono che sono importanti migliorandole e costruendo questa sorta di family park che sarà la cittadella dello sport che sarà anche un'area green dove attrarre sport che qui ad Abano non ci sono come il pedal, come l'hockey su prato, come il tennis su erba e che sono diciamo magari molto conosciuti all'estero, poco qui da noi e che attraggono moltissimo pubblico. Inoltre il nostro obiettivo è quello di costruire un golf a nove buche ad Abano, una infrastruttura che non abbiamo e che anche questa contribuirebbe sicuramente al rilancio del turismo e dello sport nella nostra città. Dateci fiducia, con noi Abano torna grande! Grazie a tutti!